aria vip napoli pizza village un personaggio direi decisamente curioso così come curiosa è quello che ha fatto fatto un libro particolare sul mondo della pizza ce lo facciamo raccontare lui antonio mattozzi buonasera buonasera è un libro che darà la storia delle pizzerie la loro nasce del loro sviluppo nel corso dell'ottocento nascono grossomodo verso la metà del settecento e però l'evoluzione piena sia nel nel corso dell'ottocento il in effetti ho trovato un documento all'archivio di stato perché il libro è molto documentato tutto ci sono tutti i riferimenti di documenti che stanno nell'archivio di stato di napoli e specialmente nel nell'archivio della polizia perché la polizia aveva il controllo naturalmente delle pizzerie sia in quanto esercizi commerciali esercizi pubblici che in quanto autore cioè perché c'era il fuoco perché facciamo dei controlli sostanzialmente c'è un documento del 1807 mi diceva che lei ha trovato che dice che ci sono c'erano quante pizzerie 54 pizzerie con nomi e cognomi quindi con nomi documentato e indirizzi indirizzi e quartieri come si chiama antonio il libro il libro è intitolato una storia napoletana edizione slow food e sottotitolo pizzerie e pizzaioli tra 7 e 800 dove lo si può trovare questo libro lo si può trovare in tutte le librerie feltrinelli sicuramente e poi in qualche libreria cittadina tipo a mezzo cannone ubic a via san biagio dei librai e qualche altro che mi sfugge. Antonio naturalmente per dovere di cronaca diciamo che riguardano tutte le pizzerie napoletane e solo quelle? Sì le pizzerie napoletane perché la pizza è nata a Napoli e quasi è sviluppata i documenti hanno dimostrato che nessuna città del mondo esistono nel corso dell'ottocento da 54 che erano poi mano a mano si sviluppano e fino a nel censimento del 1871 ne risultano 120 bene ringraziamo il professor Antonio Mattozzi docente naturalmente e a questo punto autore di libri questa è pizza food.tv Napoli Pizza Village Francesco Zazzara Grazie a tutti.